Ben ritrovati amici di YouTube, allora in questo video andremo a vedere insieme l'andamento delle obbligazioni, l'andamento dell'oro e delle azioni in quanto questi asset nelle ultime sedute ci stanno facendo soffrire, sta tutto quanto scendendo quindi a voglia, come ci dicono, di costruire dei portafogli diversificati detto ciò poi andremo a proseguire con tanti discorsi molto importanti quindi cercheremo di vederne anche insieme le implicazioni, di fare dei ragionamenti il mondo non è pronto per tassi più alti, non sono io a dirlo, poi vedremo chi lo sta affermando io ovviamente sono d'accordo, da sempre sono d'accordo su questo costo dei mutui fuori controllo, quindi anche quali saranno le conseguenze quindi l'azionario, crollo dei REITs, delle infrastrutture, delle comunicazioni e della salute vedremo quindi il mercato americano, probabilmente avrei potuto aggiungere tanti altri settori vi voglio dimostrare che l'S&P 500 sia un po' fuorviante è trenato da pochissime aziende in realtà vi ha un numero spaventoso di società anche molto importanti che sta crollando letteralmente in borsa ma anche da tanto tempo e soprattutto nelle ultime sedute dopo i discorsi di Pavel proprio stanno scivolando come se non ci fosse un domani e le condizioni di tante aziende sono come quelle del 2008 ormai in termini di quotazioni quindi poi vedremo l'indice più influente sull'inflazione di cui non parla nessuno e sta per crollare verso il basso e quindi questo indice dovrebbe tirare giù l'inflation core o comunque proprio contenerla tantissimo ed è quella carissima alla Fed ma in realtà dovrebbe anche aiutare a contenere l'inflation rate generale quindi ha un peso molto molto specifico quindi se siete curiosi andremo a vedere insieme rimanete fino alla fine e poi concluderemo con la crescita degli stipendi americani USA che sta superando l'attuale inflazione ecco perché gli Stati Uniti poi resistono sempre e quindi non mi resta altro che augurarvi una buona visione e chiedervi un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo Cominciamo i nostri studi osservando l'andamento dell'obbligazionario quindi per trovare conferme rispetto a quello che abbiamo detto adesso ci concentriamo su alcuni asset quelli diciamo principali che vanno a costituire l'ossatura in linea generale dei portafogli degli investitori e poi procediamo come promesso con tantissimi altri ragionamenti macroeconomici un indicatore di cui quasi nessuno mai parla ma che influisce tantissimo sull'inflazione vediamo come stia precipitando e quindi poi tante altre belle cose ragazzi dunque vediamo qui il TLT molto rappresentativo per capire il termometro del sentiment del ciclo economico in cui ci troviamo se ragioniamo in termini di cambiamento delle tasse di interesse e quindi anche delle obbligazioni soprattutto del lungo termine che sono le più sensibili in questo caso stiamo studiando quelle americane, statunitensi con una scadenza lunga quindi ventennale o più il punto di riferimento è questo TLT come ETF vediamo che nell'ultimo mese sta registrando quasi un meno 8% e oggi l'avevo visto diciamo ora sta guadagnando qualche piccolissimo 0. qualcosa percentuale ma in ogni caso da inizio anno sta registrando un meno 13.22 sembrava più o meno aver trovato una zona di comfort, di supporto qui attorno a 100% infatti proprio recentemente proprio in questo periodo ve ne ho cominciato a parlare in maniera anche più importante dico ragazzi io comincio a mettermi in portafoglio questi strumenti d'altronde vediamo un po' gli ultimi 5 anni abbiamo visto qui dei massimi nell'estate del 2020 e poi un cambiamento di trend che è continuato addirittura qui fino ad oggi senza soluzione di continuità quindi pur adesso perdendo magari 6-7 punti percentuali rispetto ai miei ingressi vedete come comunque l'abbia preso ben al di sotto dei valori degli ultimi anni e ora non ha più retto quello che apparentemente poteva essere un supporto perché ci ha messo sopra il carico Powell insieme a aumentare la Fed in quanto non è il presidente e ci hanno detto che hanno intenzione di mantenere i tassi alti più a lungo del previsto magari tutto il 2024 e addirittura si sono paventati più volte quelli che potrebbero essere dei futuri rialzi non li hanno in realtà fatti non hanno compiuto ne hanno solo parlato ma sono sembrati assai convincenti quindi tutto quanto il mercato alla fine ha reagito voleva sentire altro e sta tutto quanto più o meno salvo rarissime eccezioni scendendo è chiaro ad esempio il petrolio per dire abbiamo visto negli ultimi giorni è cresciuto oggi nemmeno mi sono andato ad aggiornare ma quelle sono altre dinamiche ragazzi quindi non dipendono direttamente insomma dal discorso di Powell ovviamente ora andiamo invece un po' a spostarci anzi voglio fare un passo indietro ragazzi guardate TLT quindi questo strumento è un etf guardate obbligazionario sta registrando quasi o meno 50% della serie non è vero che le obbligazioni messe in portafoglio possano necessariamente sempre e comunque essere sinonimo di bassa volatilità di super sicurezza di resilienza di un portafoglio in termini di quotazione ci sono degli eventi sfortunati soprattutto ci sono dei cicli economici o comunque delle parentesi all'interno di cicli economici che possono portare a questo e questa è la conseguenza di tanti anni a tassi praticamente prossimi allo zero e poi un furioso rialzo degli stessi ecco qual è stata la conseguenza ora andiamo a vedere l'S&P 500 quindi rimaniamo sintonizzati sugli Stati Uniti d'America che comunque sono sempre un po' il nostro termometro il nostro benchmark di riferimento fanno il bello del cattivo tempo in ambito dei mercati finanziari ed hanno sempre comunque un peso gigantesco all'interno di indici mondiali se siete incentrati su quelli allora vediamo nell'ultimo mese un meno 13.17 quindi sicuramente l'indice sta crescendo da inizio anno sta restituendo una buona performance ma vi ho più volte dimostrato che tutto quanto questo dipende da una decina di aziende essenzialmente le solite note famosissime big tech che lo stanno tirando su perché in realtà grande parte del mercato azionario non tutto ma grande parte si trova in estrema difficoltà e c'erano tantissimi titoli che sono crollati interi comparti quindi questo diciamo è uno specchio che secondo me è un po' fuorviante per fotografare l'andamento in termini di quotazioni di percezioni di sentiment di prospettive di tantissime aziende quotate in borsa anche importanti eh allora però quello che volevo dire è che comunque da quando insomma ha parlato Powell vedete anche questo indice così forte sta andando giù come l'obbligazionario e anche l'oro sta andando giù non si sta salvando non si sta salvando perché le obbligazioni con le loro cedole alte tendono a far sicuramente soffrire il cioè l'oro e poi le materie prime sostanzialmente tendono anche a soffrire di una valuta come il dollaro molto molto forte magari faremo anche un video a riguardo in questo periodo non abbiamo fatto in tempo a riportare tutti quanti i ragionamenti dopo gli accordi dei BRICS della loro estensione eccetera quando ovviamente abbiamo affrontato il discorso della dedollarizzazione da quel momento in poi dove sembrava quasi come se il giorno dopo dovesse sparire il dollaro non è mai stato così forte quindi ha acquistato tantissima forza per determinate dinamiche che andremo a vedere insieme ma se seguite i mercati penso che già alcune di queste le conosciate ma a parte questo vi posso anche dire che ad esempio tanti stanno comprando in questo momento obbligazioni americane che rendono tanto per singole obbligazioni per prendersi delle cedole molto elevate e quindi è chiaro che lo si fa in dollari questa già è una delle tante spiegazioni poi è chiaro che una valuta o un metallo come l'oro rispondono anche ad altre dinamiche andiamo a vedere un po' quello che ci dice la Fed che ha tanti esponenti rappresentanti così possiamo dire e qui si parla addirittura di una chance del 40% qui sotto un 50-50 50% insomma si punta sulla possibilità del rialzo e non sono per niente contenti i mercati e guardate andiamo a vedere come il numero 1 della JP Morgan ci abbia detto che il mondo non è preparato al 7% cioè il mondo non è veramente pronto a vivere quello che stanno promettendo alcune banche centrali o che sta promettendo la Fed promettendo attenzione non l'ho ancora fatto proprio per tutti i discorsi che vi ho portato qui sul canale si è strutturato il nostro mondo sul debito ragazzi tassi così alti lo porterebbero veramente sarebbe proprio l'ultima spinta verso il precipizio andiamo ancora avanti e guardate quello che sta accadendo ad esempio ai tassi cioè voglio dire agli interessi ragazzi a quello che chiedono a quello che chiedono sui mutui in America che percentuale che interesse paghi quanto devi restituire a quanto l'hai preso il mutuo alcuni di voi che magari hanno aperto un mutuo soltanto poco tempo fa pochissimi anni fa magari avevano un variabile con K 0 virgola addirittura o comunque dei fissi bassi molto bassi obiettivamente e guardate ora dove siamo arrivati è alto è veramente un valore alto e questo arresterà frenerà tantissimo il mercato immobiliare con tutto quello che ne consegue con il resto anche dell'indotto bisogna solo aspettare qualche mese per vederne i risultati questo momento si va a riflettere e va a influenzare tantissimo un'economia ora andiamo a vedere invece l'andamento di alcuni titoli e di alcuni comparti per farvi capire la situazione voi vedete sempre l'S&P 500 e lo ripeto quella è l'espressione ormai di 10 aziende il mercato azionario non dico in grandissima parte ma in buona parte è quasi distrutto in termini di quotazioni uno non se ne rende conto ma è così abbiamo tutto il comparto immobiliare o dei trasti immobiliari che se la sta passando malissimo io adesso ho preso addirittura una delle aziende più rappresentative vediamo una fortuna importante quindi magari non una piccolina bassa capitalizzazione che può essere oggetto di speculazione ci vuole poco per spostarla può anche essere interpretata come un po' più rischiosa qui stiamo vedendo Realty Income ragazzi guardate che scivolone che sta facendo il trend è sicuramente ribassista lo stiamo vedendo a parte che un trend ribassista ormai dura da due anni sui trasti immobiliari in linea generale ma guardate qui che discesa nell'ultimo periodo cioè da quando ha parlato Powell qualche giornata fa i Trust hanno ovviamente vissuto giornate di passione e insieme ad esso tantissime aziende da dividendo le quali magari possono essere parecchio sensibili ai tassi di interesse perché magari hanno bisogno o hanno già in pancia dei debiti importanti oppure vista la loro struttura necessitano di rinnovare il debito di finanziarsi con tanti miliardi per portare avanti il proprio business anche aziende ad esempio nel campo delle infrastrutture o delle telecomunicazioni infatti qui passiamo a parte poi i problemi specifici delle singole aziende eventualmente ma vediamo anche un AT&T sta registrando un meno 20% quindi colosso delle telecomunicazioni statunitensi qui abbiamo visto l'immobiliare se la passa male le comunicazioni se la passano male vediamo qui è un estremo ragazzi sto seguendo questa azienda NextView Energy e guardate come è precipitata veramente in maniera pazzesca a parte anche qui singole problematiche che ci possono essere ha semplicemente dichiarato un paio di giorni fa che vede rispetto a quelle che erano le sue previsioni una riduzione come target come prospettive una riduzione ragazzi quindi non un'eliminazione un taglio una distruzione una riduzione dell'aumento della sua distribuzione agli azionisti e quindi già da un dividendo molto generoso e quindi invece di avere un 12% di CAGR ha detto un 6% di CAGR da qui al 2026 l'abbiamo visto a ribasso perché comunque stiamo cominciando a soffrire questa politica di tassi elevati il mercato ha risposto malissimo praticamente ha fatto un paio di sedute meno 15 un altro meno 15 insomma sta circa a meno 25 meno 30% un paio di sedute una cosa veramente devastante e ora il dividendo è quasi all'11% per farvi capire qual è il sentiment qual è l'atmosfera qual è la realtà questa è la realtà ragazzi non è l'S&P 500 questa è la realtà di tantissime aziende degli Stati Uniti d'America vediamo Pfizer meno 37% o anche una Johnson & Johnson o meno 11% vi sto mostrando un altro comparto che per differenti ragioni sta soffrendo molto negli States ovvero quello appartenente all'Health Care vuoi che siano le farmacie vuoi che siano i farmaceutici puri vuoi che siano aziende legate invece a strutture sanitarie dagli ospedali agli uffici per medici alle strutture infermieristiche a cui ospitano gli anziani che più ne ha più ne metta ma tutto quanto questo mondo non se la sta passando bene poi è chiaro che se in intere listini borsistici appartenenti a diversi settori troveremo sempre delle eccezioni che confermano la regola ma per farvi vedere che non è tutto rose e fiori non è tutto oro quello che luccica ecco perché insisto tanto sul fatto che è fuorviante vedere a volte soltanto un indice dei mercati più ampi dove la fanno da padrona pochissime aziende ora andiamo a vedere altre situazioni facciamo dei ragionamenti United States Fed Funds Rate quindi questi sono i famosi tassi di interesse ragazzi che stanno facendo tremare il mondo siamo qui più o meno al 5.6 stiamo no e ci hanno promesso che dobbiamo stare attenti che se siamo cattivi ci fanno qualche altro rialzo ce l'hanno ripeto promesso ma ancora non lo hanno fatto a cosa serve tutto quanto questo perché lo stanno facendo lo sappiamo l'abbiamo imparato a memoria ne hanno parlato tutti i ragazzi probabilmente anche i giornali di sport ora qui cambiamo e andiamo a vedere l'Inflation Rate quindi l'inflazione è salita tanto lo scorso anno anche quest'anno insomma al minimo si è fatta anzi direi si è fatta parecchio sentire perché poi dobbiamo sommare l'inflazione di quest'anno a quella dell'anno scorso ce ne accorgiamo nel carriero della spesa quando andate a fare la spesa mi metto paura perché poi qual è il problema ragazzi è che magari l'inflazione scende al 3% ma se l'anno scorso era il 10% è praticamente il 3% sul 10% dell'anno scorso quindi capite rispetto a due anni fa quanto è cresciuta e c'è anche un interesse composto in questo quindi non è solo non è il 10 più 3,13 è anche di più e quindi è un problema bisogna ovviamente sgonfiarla pare che ci stiano riuscendo perché in questo momento sono molto più alti i tassi di interesse negli Stati Uniti rispetto all'inflazione vedete qua un 3,7 qui abbiamo avuto un minimo di un 3 poi ci aspettavamo per diversi motivi era telefonato questo non in balsam che qui ne avevamo parlato perché luglio lo scorso anno era stato un mese a zero quindi qui c'è stato un mese sul mese solo 0 più 2 che comunque è basso perché se andiamo sull'analizzato era un 2,4 quindi questo era inevitabile poi c'è il problema che qui all'interno ci stanno ovviamente anche food ed energy nell'inflazione rate e se ci sono quelle dinamiche per cui decidono di tagliare paesi come l'Arabia Saudita o la Russia di tagliare la produzione oppure insomma di comportarsi in maniera tale da fare alzare i prezzi o comunque c'è speculazione insomma fate voi si aumenta ovviamente l'energia poi nei prossimi mesi c'è timore che ovviamente l'inflation rate possa salire ma noi andiamo a prendere l'inflation rate quella giusta in che senso nel senso che per noi insomma è giustissima anche quella precedente perché ragazzi food ed energy io penso siano vitali per una persona tutti ci spostiamo l'energia comunque poi ha un impatto su tutto tutto quanto quello che esiste al mondo perché ci si produce o ci si produce proprio energia o comunque serve per trasportare le merci e quindi questo si va a riflettere e anche il food perché tutti quanti ne mangiamo tuttavia per avere un termometro migliore la Fed ci dice da sempre perché vuole guardare la core inflation rate perché comunque il food e il petrolio e simili sono molto volatili c'è speculazione vanno su e giù e quindi è meglio vedere questo quindi andare a escludere quelle due voci anche qui stava un po' in ritardo la riduzione ma vediamo un calo drastico rispetto a due tre mesi fa quindi sicuramente sta rientrando tanto 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 sotto controllo ben al di sotto dei tassi di interesse quindi per molti non serve andare a complicare ulteriormente la situazione che vi ho fatto vedere come stanno andando sotto pressione alcune realtà e sarebbe assai peggio se aumentassero ancora i tassi abbiamo visto anche come sia destinato a bloccarsi il mercato immobiliare e perché perché rialzarli ancora molti dicono che in ogni caso vogliono apparire super determinati vogliono dare quella impressione perché desiderano non alimentare entusiasmo a livello proprio di espansione dei mercati quindi andiamo ancora avanti qui stiamo nel sito della Casa Bianca di White House non pensavo di andare ad atterrare qui tuttavia cercavo delle informazioni che vi volevo mostrare pensavo di trovare in qualche altro sito un po' più classico tradizionale però qui lo spiegano benissimo ragazzi praticamente gli alloggi questo vi volevo dire gli alloggi hanno un ruolo incredibile cioè l'immobiliare ha un ruolo pesantissimo nell'indice quindi nel Consumer Price Index statunitense è veramente forte veramente veramente forte pesa per un terzo e addirittura il 40% del basket core ragazzi dove va a escludere abbiamo detto il food e i componenti energetici perché sono volatili quindi il 40% del peso è enorme no? qui infatti ci dice che piccoli incrementi in rent quindi negli affitti o negli home prices quindi nelle prezze delle case possono creare ovviamente degli effetti sull'inflazione visibili importanti hanno questo peso e allora allora andiamo a vedere il grafico che vi mostro guardate ragazzi abbiamo per fortuna non solo il CPI rent quindi la sorta di consumer price index su rent cioè sugli affitti quindi abbiamo detto che hanno un grosso peso nella componente immobiliare e sappiamo come il consumer price index quindi l'andare a rilevare dei dati sia tutto quanto un po' tardivo no? è tutto in ritardo cioè quando oggi un dato in realtà è del passato non lontanissimo recente passato ma è del passato invece noi possiamo avere una fotografia più veritiera del presente perché si fanno i contratti vengono subito rilevati i valori è matematica ragazzi elementare proprio matematica abc nel senso si vanno a registrare nuovi contratti e quanto sono questi contratti rispetto all'anno scorso per dire rispetto a un periodo prestabilito no? sugli affitti e questo è il risultato questo è il risultato quindi diciamo che si stima che ci possono essere parecchi mesi parecchi mesi di ritardo del consumer price index rispetto alla realtà magari ce ne accorgeremo fra 6-9 mesi new tenant vedete qui il rent index ragazzi qui ci fa dire che praticamente non è un 8-9% è un 2% la realtà di fatti che è un 2% cioè l'affitto ad oggi rispetto all'anno scorso l'affitto è un 2% in più negli states ed ha un peso enorme nell'inflation core io questo vi voglio dire quindi si stima alla fin dei conti che il consumer price index classico renta è 9 mesi di ritardo rispetto alla realtà che è ben altra tutto quanto questo io mi chiedo lo sanno i signori della fed ma certo che lo sanno ma certo che lo sanno però per me vogliono essere veramente sicuri cioè la narrativa deve essere una ma chi è che va a scavare queste cose ragazzi ma nessuno cioè solo gli addetti ai lavori giornalisti gli appassionati come me vi porto qui sul tubo queste cose ma chi le va a scavare le sanno le sanno le sanno benissimo ora andiamo a vedere quello che sta accadendo la media dei prezzi delle case vendute negli Stati Uniti d'America crescono praticamente dalla crisi finanziaria del 2008 2009 insomma sono anni anni che crescono se di tu hai parlato di bolla e ora io vedo una controtendenza vede qui il 2023 ho visto insomma un po' di discesa quindi c'è stata una frenata e una bella discesa qui vediamo 552.000 siamo scivati sotto i 500.000 a 4,95 e quindi abbiamo visto una brusca frenata degli affitti e una frenata quindi diminuzione degli affitti in termini di aumento in percentuale ragazzi perché in realtà stanno aumentando ma sono andati al 2% che è proprio standard tradizionale classico quello che desidererebbe anche la Fed e poi invece abbiamo visto anche una contrazione dei prezzi dell'immobiliare tutto quanto questo andrà ad alimentare come l'inflation core che guarda la Fed la farà diminuire ora andiamo a vedere invece quest'altro dato ovvero quanto guadagna mediamente qui un americano per ora quando lavora poi è chiaro ci sarà quello che guadagnerà molto di più e quello che guadagnerà molto di meno ma noi prendiamo una media per vedere quello che sta accadendo bello eh siete invidiosi siamo tutti invidiosi un po' in Italia non credo che noi abbiamo in linea generale questo andamento nel nostro guadagno orario e vediamo l'ultimo anno notevole no? ecco perché poi resistono sempre di più gli americani rispetto a noi e qui mi sposto è molto simile che cos'è il consumer price index vedete è cresciuto quindi più o meno va di pari passo ma chi sta vincendo nell'ultimo anno perché si è parlato tanto del fatto eh sì eh sì ma crescono i stipendi in America ma non stanno al passo con l'inflazione era vero prima nell'ultimo anno non è per niente vero ragazzi cioè nel senso sono cambiate le cose se facciamo i calcoli e finalmente vedete la crescita salariale non è solo nominale ma è diventata reale rispetto all'attuale inflazione questo ovviamente sempre negli Stati Uniti d'America e sono questi i fattori che ci fanno propendere o che diciamo per l'atterraggio morbido o per scongiurare la recessione quella recessione di cui si parla sempre non è mai ancora arrivata è chiaro che inevitabilmente arriverà ma se ci pensate ragazzi ogni volta all'orizzonte c'è una recessione perché la recessione fa parte delle economie fa parte dei cicli economici è inevitabile il problema non è il se ma il quando ma neanche il quando tanto il problema è ciò che comporterà è l'intensità la gravità della stessa se è una recessione di passaggio una piccola contrazione del pil un po' aumenta disoccupazione qualcosa del genere chi se ne importa a livello macro dico mi dispiace se qualcuno perde il posto di lavoro se si trova in difficoltà non riesce a pagare il mutuo ma non è nulla di così eclatante e invece se si scatena la depressione 1929 diamine sono grossissimi problemi questi sono discorsi banali ma è la realtà dei fatti a volte sembra quasi che le banalità vengano messe da parte bene ragazzi siamo giunti alla conclusione fatemi sapere voi cosa ne pensate se tutti quanti i ragionamenti gli argomenti che abbiamo parlato poi obbligheranno in realtà la Fed a non effettuare così tanti rialzi e a un certo punto dovranno anche tagliarli prima di quanto non dicano proprio per tutte le ragioni che vi ho mostrato fatemi sapere veramente voi cosa ne pensate nei commenti io vi auguro il meglio nella vita negli investimenti vi do appuntamento a prestissimo ciao